Ciao, oggi vediamo un oggetto indispensabile per i nostri laboratori. Si tratta delle lenti da utilizzare per le riparazioni in generale, quindi orologi a livello dentistico e artistico, in questo caso per il nostro laboratorio elettronico. Stiamo parlando di questi occhiali. Li trovate in descrizione su Amazon al costo di 18 euro. Secondo la mia opinione, visto che li utilizzo da tempo, 18 euro li valgono tutti. Ovvio che con 18 euro non possiamo pretendere la luna. Vediamo com'è composta la scatola. All'interno della scatola troviamo il manuale in cinese e in inglese. Vi dico subito che l'italiano non c'è, però questi occhiali sono molto semplici da usare. Nella scatola troviamo un contenitore in cui è contenuto il panno e le lenti. Nostro panno, le nostre lenti. Partono da 1x fino a 3,5x. Questi sono gli occhiali, questo è il cinturino, incluso. Questi occhiali ci permettono di lavorare agevolmente in quanto ci tengono le mani libere. Sono leggeri e molto confortevoli in quanto hanno una parte in gomma per la fronte, così che i naselli sono anch'essi in gomma. Sono leggeri anche con le pile inserite. Dietro questa parte in gomma è presente l'alloggio per le pile. Pile che servono ad alimentare il nostro LED frontale, regolabile in base alle nostre lavorazioni. La parte dove va inserito l'obiettivo è anch'esso regolabile. Tutto il blocco obiettivo LED è regolabile. Questa regolazione ci permette di lavorare sulla scheda e di vedere altro. Inserire una lente o toglierla e sostituirla è davvero, davvero facile. Abbiamo inserito una lente, possiamo lavorare. Come potete vedere, abbassando gli occhi possiamo fare altro e quindi alzandoli possiamo focalizzarci sul nostro obiettivo. Come abbiamo detto ci sono 5 lenti. La prima da 1x, la quinta da 3,5x che ci permette di avere uno zoom maggiore. Io consiglio altamente questo prodotto perché è indispensabile per il nostro laboratorio. Grazie per la visione, alla prossima! E iscriviti mi raccomando! E iscriviti mi raccomando!